L'anello solitario è un simbolo senza tempo di amore e impegno. La scelta di un anello solitario è un momento importante e significativo nella vita di una coppia. È un gioiello che rappresenta l'unione e l'affetto duraturo. In questa guida completa, esploreremo i fattori chiave da considerare quando si sceglie un anello solitario e i preziosi consigli di un gioielliere che ti aiuteranno a prendere la decisione giusta. Prima di iniziare la ricerca, è essenziale stabilire un budget. L'anello solitario è disponibile in una vasta gamma di prezzi, quindi avere un budget chiaro ti aiuterà a concentrarti sulle opzioni che si adattano alle tue possibilità finanziarie. Ricorda che l'importante è il significato simbolico dell'anello, non solo il prezzo. Il diamante è la pietra preziosa classica per un anello solitario. È fondamentale comprendere i 4C del diamante, caratura peso, purezza, colore e taglio. Questi fattori determinano il valore e l'aspetto del diamante. Assicurati di essere informato su quali caratteristiche siano più importanti per te, in modo da poter prendere una decisione consapevole. Il metallo dell'anello solitario contribuisce all'estetica complessiva e alla durabilità del gioiello. I metalli più comuni sono l'oro bianco, l'oro giallo e il platino. Considera il tuo gusto personale e se hai preferenze per un determinato colore di metallo. Inoltre, ricorda che alcuni metalli richiedono più manutenzione di altri. L'anello solitario può avere vari stili e design, dalla classica montatura a 6 punte al moderno design con fascia intrecciata. Scegli uno stile che rispecchi la personalità e il gusto della persona che lo indosserà. Prendi in considerazione anche la forma del diamante, come rotonda, princess, ovale o smeraldo. E se preferisci una montatura semplice o più elaborata. L'anello solitario sarà indossato ogni giorno, quindi è importante assicurarsi che sia comodo e pratico. Considera la forma della montatura e se il design potrebbe intralciare le attività quotidiane. Un gioielliere professionista sarà in grado di consigliarti sulla scelta di un anello che sia confortevole e adatto al tuo stile di vita. Quando acquisti un anello solitario con un diamante, assicurati che sia accompagnato da un certificato di autenticità da un laboratorio gemmologico riconosciuto. Questo documento attesta le caratteristiche del diamante e la sua autenticità. È importante fare acquisti presso gioiellieri affidabili e di fiducia che offrano garanzie e certificazioni adeguate. Considera la possibilità di personalizzare l'anello solitario per renderlo ancora più unico e speciale. Puoi aggiungere un'incisione interna con una dedica o una data significativa. Alcuni gioiellieri offrono anche la possibilità di personalizzare il design della montatura o di scegliere una pietra preziosa diversa dal diamante, come un rubino o uno zaffiro. La scelta di un anello solitario è un momento emozionante e significativo. Prenditi il tempo necessario per fare una ricerca approfondita e considera i consigli di un gioielliere esperto. Conoscere il budget, i 4C del diamante, il metallo, lo stile, Il comfort e la personalizzazione ti aiuterà a prendere una decisione consapevole e a scegliere un anello solitario che rifletta l'amore e l'impegno della tua relazione. Ricorda sempre di fare acquisti presso gioiellieri di fiducia e di richiedere certificazioni di autenticità per garantire la qualità e il valore del tuo anello solitario.